Contro soldati che non hanno usato le armi non si può ordinare la decimazione. Ma l'articolo 92 del codice... Ma quello è ancora il codice del 1869. Ma è valido ancora oggi. Questo articolo prevede la pena di morte con infamia nei casi di rivolta in faccia al nemico. Qui non siamo in faccia al nemico, qui siamo alla presenza del nemico e quindi rientriamo nell'articolo 137 che prevede il carcere militare. Ma siamo in faccia al nemico, siamo in prima linea. Solo se c'è un'azione offensiva in atto si è in faccia al nemico, qui siamo alla presenza del nemico. Caro Stringeri, ma domani c'è l'attacco? Domani non è oggi. La guerra si vincerà solo quando alle nostre truppe sarà applicato il metodo disciplinare che usavamo in colonia con gli Ascari. I nostri soldati sono cittadini come te e come me. Gli Ascari sono truppe mercenarie, straniere e di colore. Questa differenza mi pare essenziale. Avete introdotto la filosofia nell'esercito. Ecco la ragione della nostra debolezza. Il generale Leone ha comunicato con il comando. Va applicato l'articolo 92. Decimazione. Io non ho fatto niente. Non voglio pulire. Non voglio pulire. Non voglio pulire. Non voglio pulire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.